Come ho detto prima, i collegamenti partono già subito con un artista che è un poliedrico perché ama recitare, ama fare l'attore, ama fare video, ama soprattutto anche la musica e allora saluto il nostro amico Pietro Passatore. Buonasera, Piali! Ciao, come va? Tutto bene, dalle nostre parti si sta bene, spero anche dalle tue. Dalle mie sta nevicando di bruttissimo adesso. Quindi proprio aria natalizia in tutti i sensi, anche climaticamente. Eh? Sì, un White Christmas. Ecco, un White Christmas. Allora, avvicinati al microfono del tuo telefono perché la cosa bella è poter anche parlare di Piero, di Piali, questo alias che hai scelto. Allora, personaggio poliedrico, forse hai la radio anche messa un po' alta, abbassa il volume così almeno sentiamo meglio quello che ci dici di te. Agli ordini. Allora, Piero. Eccomi qua. Bene, quindi, Piero ama fare tante cose. Come nasce questa passione di fare, di recitare, di volere anche video filmare quello che, insomma, il tuo pensiero e soprattutto anche la musica? Raccontaci un po', brevemente. Ok, brevemente. Io sono un po' l'agonoico, perché ho lì mi stacchi. Secondo me, il mio esiste ci dà dei toni. Siamo sciocchi, se non li usiamo, se non riusciamo a fare bene alcune cose più predisposte, diciamo, a molte delle preposizioni. Io ho sempre cambiato, cioè mio padre lavorava, facciamo un lavoro perché dovevamo trasvocare parecchie volte, sono cresciuto tra New York e Londra principalmente, anche un anno alle Wine. e secondo me è questa cosa di cambiare in continuazione ogni anno, ogni due anni, casa, quartiere, eccetera. O ti chiudi, diventi depresso e impari a fare amicizia in fretta. Certo. Poi sono sempre stato un gran osservatore della natura e del comportamento umano e osservando uno scoglie delle cose e poi recitare, come l'hanno insegnato, e vivere realmente in circostanti immaginari è una cosa molto piacevole e poter capire come altre persone, se i personaggi ragionano, pensano a quello che vogliono, e come sono cresciuti, tutti quelli che genetano e poi dopo che ti sei creato il personaggio ci vivi veramente. Bene, poi c'è da dire anche una cosa, che tu ami filmare, come abbiamo detto, ami recitare e ami anche la musica, tra l'altro poi andremo a sentire anche un paio di brani che abbiamo in playlist in cui c'è il tuo zampino sicuramente. Sì, mi sono innamorato particolarmente della musica rap americana di anni 90. Mi accompagna proprio la colonna sonora della mia infanzia, sono dell'80, nell'88 vivavo già a New York e in pratica ero l'unico italiano in un quartiere che era più che altro ebreo, poi c'era anche la famiglia orientale, la famiglia afroamericana. Multiraziale, certo. Multiraziale ma non c'erano italiani, perciò sono cresciuto, diciamo, che la cultura che parlava più a me, che mi emozionava di più, fin da bambino era quella afroamericana. Io amavo il basket, ero molto piatto di altri ragazzi e amavo, è l'unico sport che ho mai seguito. Sono appassionato dell'NBA, per anni ti favo New York Knicks, per nemmeno un po' di l'usco. Perciò da 5-6 anni sono lavorato per fare la canestro, già via New York in America, verso i 7-8 del musica rap. Perciò mi ha cresciuto e tanti miei, diciamo, eroi da bambino, Ice Cube, Snoop Dogg, Michael Jordan, sono cresciuto con loro e non con, non lo so, Maradona. Vabbè, con il calcio, tu più appassionato di basket. Però concentriamo l'attenzione perché adesso parliamo invece dei due brani che andremo a sentire che fanno parte un po' di quello che è anche un, dove c'è un tuo contributo importante. Quindi andremo a sentire gli ASB e poi un altro che è in Bezley, mi pare qualcosa del genere. Quindi parlaci di questi due brani che andremo a seguire. ASB è un gruppo slash collettivo di più rato beatmaker, per chi fa anche i vestiti, gli artisti di vario tipo, che abbiamo come obiettivo unico, quella della non discriminazione e antirazzismo. Vogliamo un mondo molto etnico, dove tutti vanno d'accordo, c'è un scambio continuo di culture e non approviamo tanti messaggi che vengono passati in brani più commerciali, eccetera, dove ci sembra che sia un obiettivo di dividere, di creare etnofobia, creare discordia, generalizzazioni che secondo me non portano a niente di buono. Perciò abbiamo creato questo gruppo, il primo obiettivo che abbiamo fatto, si chiama Apretura Mentale, e titolo a parlare tanto per se stesso. Infatti, infatti. Mentre sul secondo che cosa ci dici? E tra l'altro lì ho fatto la mia prima strada in italiano. Ah, ecco. Ho sempre rappato in inglese, sono madrino in inglese americano, ho sempre rappato in inglese, perciò per me ci ho messo un impegno particolare. Il secondo brano mi hai chiesto? Sì, sì, sul secondo. Secondo brano? Assumi, il primo brano è prodotto da Anthony Lewis, che stavo quasi dimenticando, ottimo produttore, anche lui è mezzo africano, mezzo italiano, però è nato e cresciuto qua in Italia. Il secondo brano è prodotto da un produttore che sta a Toronto, che si chiama Location, con la K, e fa parte della clona sonora di una webserie che è in produzione qua a Torino, si chiama Beste doblio, di un regista tailandese, Wachara Kiri, sempre molto internazionale, diciamo, e che è il regista nel suo DG3, che abbiamo filmato della Notav, perché siamo anche abbastanza notav, diciamo, e abbiamo filmato di sabato scorso, qua a Torino, e poi sta aggiungendo, come fosse una pseudo trailer della serie, sta aggiungendo, come spesso si fa, pre-film, delle scene chiavi della serie, così, come dei flash, per invogliare le persone a seguire anche la serie, ovviamente. Ed io sono con un rapper inglese, che si chiama Delinquent, un italiano che ha comprodotto la canzone, di Cain di Torino. Bene, bene, insomma, sei stato abbastanza chiaro, noi ti dobbiamo fare un in bocca al lupo sempre per il tuo futuro, per quello che farai, e quindi ci sentiremo magari prossimamente. Noi ci godiamo la musica a cui tu hai dedicato anche il tuo tempo. Ti ringraziamo e ti auguriamo un buon Natale, buone feste, e a presto. Grazie a te, e anche ho sentito che l'ultima puntata dell'anno, perciò... Sì, ovviamente. Grazie. A te una buona serata, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un'interoga, ciao. Mi chiamo Donald, e non costruisco muri, voglio bene a tutti, anche quelli impuri, comunque vada, auguri, ma siamo sicuri che così mi rassicuri? OK, Io non voglio fare polemica, visualizzazione panoramica, parlo alla paccia ma non faccio retorica. Ora, fatta l'Italia facciamo gli italiani, sparcati gli immigrati costruiamo un domani. Io sono Gros, dalla terra dell'Ulivo, perché si rivede in ciò che scrivo. Veronissi sta sulla strada, mio nono terrone non gli affittavano la casa. Dove la mafia toglie la voglia di vivere, c'è mamma Africa che ha ancora voglia di ridere. Persone libere, scappare dalla guerra e dalla fame è un diritto che non bisogna cancellare. L'unione fa la forza per chi ci creere davvero, la musica è il mezzo per seguire il sentino. L'amore ci aiuterà a migliorare il mondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Solo con l'apertura mentale. Sono arabo, nato in Italia, cui ha il colore della pelle, dimmi cosa cambia. Non conta la razza, non seguo la massa, in zona trovi tutte le nazioni in una piazza. Se siamo uniti fra, saremo più forti. Apri la mente, allargo gli orizzonti, non importa come lo chiami. Davanti a Dio siamo tutti uguali, esseri umani. Vivo per le strade di barriera musulmano, mio fratello è cristiano, tra di noi nessuna barriera. Vorrei vedere il mondo sotto un'unica bandiera, quella della libertà, uguaglianza e pace vera. Mi sento un alieno nel mio paese, italiano, stato mentale niorchese. Mi chiamo Pieli, non sono qui per puro caso, dalle gambe mentali del mondo sono evaso. Sono solo capace di giudicare le persone, per quello che hanno dentro la mente e il cuore. Marte è un sogno, Bobo è una missione, Malcom le palle e Tupac la soluzione. L'unione fa la forza per chi ci crede davvero, la musica è il mezzo per seguire il segno. L'amore ci aiuterà a migliorare il mondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Non so te, ma io non sono po' crità, non sono qua per dirti nulla che è la verità. Nella strada troppo stress, nascono complessi, non siamo tutti criminali senza permessi. Tutto quel che sanno fare è parlare, detestare e far del male a chi ha deciso di restare leale a lo stesso. Al costo di lasciarsi odiare quella gente intelligente, non si lascia bullolare, vivi e lascia vivere. Io sto qui, apri la mente e ogni cuore can judge me. Canto la mia disapprovazione, passivo come il governo all'opposizione. Cerco una visione a lungo raggio, non batto un chebapparo e un cintro massaggio. Porta avanti il tricolore, lo porta avanti con del calore, lo porta avanti un bicolore. Lo porta avanti con plus valore, valore, calore, olore. L'unione fa la forza per chi ci crede davvero, la musica è il mezzo per seguire il segno. L'amore ci aiuterà a migliorare il mondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare fino in fondo, solo con l'apertura mentale. Ma una amare gapsa per la razza, anche la ragazza mentale. Non c'è passare il nostro corso. Noi riusciremo ad arrivare in fondo, solo con l'apertura mentale. Riusciremo ad arrivare in fondo, solo con l'apertura mentale. Noi riusciremo ad arrivare in fondo, solo con l'apertura mentale. In questo modo, la mia amare è un ballo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501